Nel 2022 il Tribunale Amministrativo della Campania ha pubblicato più di 6.800 sentenze. Nello stesso periodo le pendenze sono calate sensibilmente, nonostante la cronica carenza di organico mai colmata. A tirare un bilancio delle attività della giustizia amministrativa nella nostra regione è Vincenzo Salamone, presidente del TAR della Campania, in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario. È stato un anno importante, un anno complesso, importante, è stata anche una riorganizzazione interna con l'assunzione di nuovo personale, quindi da questo punto di vista è un po' un modello virtuoso. I ricorsi al TAR sono aumentati del 10%. L'incremento più significativo ha riguardato i ricorsi in materia di servizio sanitario nazionale. L'aumento dei giudizi in questa materia è stato del 452%. La cosa che più preoccupa nelle parole del presidente sono però le infiltrazioni della camorra nei settori dell'imprenditoria legale, che ne piega le regole e gli equilibri, ha aggiunto Salamone, per consolidare il proprio potere e per perseguire profitto.